Non si era mai vista in precedenza una cosa simile. Evidentemente il signor Giuseppe Conte è terrorizzato, terrorizzato dall'eventualità nemmeno troppo remota di finire in maniera ignominosa la propria carriera politica. Nel discorso fatto in diretta a Facebook ha dimostrato così tutta la sua inadeguatezza nello svolgere un compito che è travalica evidentemente dalle proprie capacità. D'altronde un leader, parliamoci chiaro, non si improvvisa. Non si può prendere un avvocatucolo di provincia e metterlo a fare il premier, dai. Oltretutto di un paese fra i più importanti al mondo. Questo è sostanzialmente il grande fallimento del Movimento 5 Stelle. Un grande movimento che aveva avuto un grande consenso avendo basato il proprio programma su grandi ideali che tanto avevano incontrato il favore degli italiani. Ma in qualsiasi attività dell'uomo l'improvvisazione non giova. Conte è un premier improvvisato e questa sera ne ha dato un esempio più eclatante. D'altronde si poteva facilmente immaginare che dopo un giovedì santo di tradimento facesse seguito un venerdì santo di passione. Dopo la caporetto dell'Eurogruppo nella quale non è stato umiliato il ministro Gualtieri, quello oramai è da anni che viene umiliato in Europa. Ieri è stata umiliata l'Italia intera perché non è stata accettata nessuna delle proposte da noi avanzata, mentre sono state approvate tutte le proposte avanzate dall'Olanda, cui ministro delle finanze naturalmente alla fine goncolava. Ebbene, cosa è accaduto oggi? Beh, semplicemente che non sono stati solo i leader dell'opposizione a criticare l'accordo siglato da Gualtieri ieri, ma a dirsi contrari, totalmente contrari, sono stati anche numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle. Certo, questo che può sembrare uno scatto d'orgoglio del Movimento 5 Stelle può anche essere dovuto allo spirito di sopravvivenza, nel senso che dopo aver già perso all'incirca il 60% del proprio elettorato, visto che hanno dovuto piegare la testa praticamente su quasi tutte le loro battaglie, le battaglie che avevano sostenuto in campagna elettorale? Ebbene, se avessero abbassato la testa anche sul MES, per loro sarebbe stata praticamente prossima alla completa estinzione. Ricordo che nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle era scritto nero su bianco che il MES non andava riformato, ma addirittura doveva essere smantellato, questo è il preciso termine utilizzato sul programma elettorale. Quindi questa cosa non doveva passare. Il Movimento quindi oggi ha dato a Conte l'out-out sul MES, sarebbero stati disposti anche a votare contro, facendo cadere il governo. Per Conte è una prospettiva angosciante. Immagino che ore devono essere state per lui. Se gli tolgono quella poltrona a Palazzo Chigi temo che quell'uomo possa andare in depressione. D'altronde quell'ok da parte di Gualtieri ieri notte è un ok che ovviamente Conte deve avere avallato e lo ha messo in una situazione quasi senza uscita. Tuttavia, insomma, è una situazione che se ne è andata a cercare lui. Adesso il re è nudo, insomma. Non si possono fare gli interessi della Germania e dell'Olanda e poi raccontare agli italiani di aver difeso i nostri interessi. Per un po' gli italiani ti credono, perché gli italiani sono creduloni, sono ingenui, ma a tutto c'è un limite e non amano essere presi per i fondelli. Almeno oltre certi limiti, ripeto. Non puoi dire in Italia no mess, sì euro bond e poi andare in Europa e approvare sì mess, no euro bond. Dai! Era troppo, troppo davvero. Dai! Conte, non ti devi assolutamente permettere di trattare il popolo italiano da imbecille. E allora la figura dell'alloco l'ha fatta lui. Come poteva uscire da questa situazione obiettivamente per lui apparentemente senza via d'uscita? Beh, ribadiamo. Tuttavia, situazione nella quale nessuno lo ha costretto, ma si è messo lui tentando di prendere in giro gli italiani. Allora, si è andato a ingarbugliare e come si dice spesso in questi casi, la topa è stata peggio dello sbrego. Ha dovuto difendere Gualtieri perché altrimenti con le dimissioni di Gualtieri sarebbe crollato anche lui. Ha quindi penosamente detto che Gualtieri non ha approvato nulla e noi il MES non lo chiederemo. Beh, ma io mi dico, ma ci mancava solo che chiedessimo l'intervento del MES. Ma in un caso del genere il Premier deve essere incriminato immediatamente per attentato alla Costituzione, anche se so perfettamente che è un reato ascrivibile esclusivamente al capo dello Stato. Ma insomma, avete capito? Cioè, richiedere il MES con le condizionalità? Ma significa cedere totalmente la sovranità agli stranieri? È in aperto e palese contrasto con l'articolo 1 della Costituzione che, come tutti sappiamo, dice che la sovranità appartiene al popolo. Quindi Conte dice che noi non richiederemo l'aiuto al MES. Ok, ma ci mancherebbe, ve l'ho appena detto. Ma allora che battaglia abbiamo portato avanti? Statemi a sentire perché è comica. Conte dice che noi abbiamo fatto questa battaglia affinché altri stati possono richiedere l'intervento del MES. Ma avete capito? Sì, caro Conte, certo, saranno la Germania e l'Olanda a chiedere di essere aiutati dal MES. E tu andrai a Berlino e ad Amsterdam a far rispettare le condizioni previste. Ma dai, non fare ridere. Non fare ridere. Il nostro premier ha fatto la figura di quello che entra nel frutteto per rubare una mela e quando la sta staccando dall'albero, scoperto naturalmente dal padrone del frutteto, si ferma e così un po' imbarazzato dice, ah, stavo guardando quale varietà di mele coltivate, insomma, ecco, questo, insomma, preso con le dita nella marmellata, ecco. Ma se si fosse fermato lì, certo, ripeto, avrebbe fatto la figura, insomma, sapete voi di cosa, però finiva lì, ok? Invece ha voluto proseguire e lì ha dimostrato inequivocabilmente di essere un uomo senza alcuna qualità. Ha attaccato frontalmente, infatti, citandoli i capi dell'opposizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma nell'attaccarli ha fatto un errore clamoroso, veramente in anella una figuraccia dopo l'altra. Allora inizia, infatti, Conte dicendo che il MES non è una novità, ma una cosa che esiste dal 2012. Bravo Giuseppe, giusto! Proprio così, hai ragione, esiste dal 2012. E poi aggiunge, e lei, Giorgia Meloni, era anche ministro. Ma ignorante che non sia, ignorante, naturalmente, nel senso buono, sia di persona che ignora. Perché Giorgia Meloni era ministro del governo Berlusconi che, come tutti sanno, fu buttato giù dal colpe dello spread, arrivato dall'Europa, nel novembre del 2011. Il MES fu approvato dal nostro Parlamento nel 2012, quindi durante il governo Monti. Insomma, non è ammissibile che un nostro primo ministro non conosca neppure le varie legislature che si sono succedute nel nostro paese. Quest'ignoranza qua non è ammissibile. Ma oltretutto un primo ministro deve essere il primo ministro di tutti gli italiani. Io penso che non sia mai successo che in una diretta televisiva il premier si sia permesso di attaccare personalmente i rappresentanti dell'opposizione. Qua deve dire qualche cosa il capo dello Stato, perché queste sono cose veramente da regimi dittatoriali. Vabbè, concludiamo questo video. La storia è finita. Beh, no, tutt'altro è appena cominciata. Ora vedremo cosa accadrà, cioè cosa dirà il nostro premier al Consiglio europeo e poi la battaglia in Parlamento. Un'ultima notazione per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. che si affanna a dire che l'Italia non ha attivato il MES. Ma certo, ma ripeto, ci manca solo che si attivi il MES e poi siamo a posto. Il fatto, cari amici pentastellati, è che voi volevate giustamente, e io ripeto giustamente, smantellare il MES. E ora cosa vi siete ridotti a difenderlo? Ci avete spiegato che il nostro governo adesso andava in Europa per fare una battaglia contro il MES e per gli Eurobond, ed invece ci siamo piegati sui voleri di Olanda e Germania. E allora per voi questo è un successo.